Vamo a parlare della classe in si Misma, perché l'esperienza mi ha insegnato, dico, se voglio Fragmentare la cosa in questa maniera, Usted va a entendere perfettamente Tutti i punti, lo che mi interessa a me. E, intonse, antes di iniziare la classe, Bueno, io llego a una classe di yoga. Che voglio fare? La prima cosa è che voglio A enfriare tutto il mio corpo. Ora lo posso fare attraverso il medio baio. Ora ti ho mettere il link qui sotto, perché c'è un articolo molto ben fatto Sobre il medio baio o il baio. Te lo vedo e lo vedo, così non perdiamo tempo nel video. Quindi, perché questo va a enfriare il tuo sistema glendulare? Che vabbiamo a trovare? Le glándule. Tu vuoi tranquillizzare la mente E vuoi arrivare a questa classe di yoga tranquillo. Perché? Perché viene anche da un giorno di lavoro, Ho fatto molte cose, vuoi equilibrare questo. La altra cosa è l'ambiente. L'ambiente non deve essere come un luogo aperto, deve essere un luogo cerrato, perché il tuo corpo si vuole molto sensibile. Quindi, in un luogo aperto, può essere un luogo forte o può essere un luogo frio. Il corpo si vuole come un'antenna. Quindi, se tu non vuoi fare questo, è un luogo cerrato. Deve essere un salone fresco, ventilato o bene, e senza humo. Tutta questa cosa qui, nel prossimo video tu vas a vedere quale è che passa nel mondo. E ora ti dico come sono le cose. Ok. Evitare di usare un incienso o un aroma natural. No, questo è molto bello. Il incienso è molto spirituale. Non c'è nulla a che fare con i tui pulmoni. Tui pulmoni sono pulmoni, non c'è nulla a che fare con la tua spiritualità. Ok. Ok. Quindi, deve essere un luogo limpio, tranquilo, senza ruido. Va bene. La illuminazione deve essere suave. Va bene. E tutte queste cose sono importanti. Che più? Lo vellos. Lo vellos? Si. Lo vellos. Non ti affecta, non ti affecta, non ti affecta le pelle dei articulazioni, del axile o del ingle. E perché? Perché? Abajo te pongo un enlace e questo te va a explicar il perché tu non lo devi fare. Perché questo tiene un efecto nella sassana e nel sistema glandular. Otra vez. Las uñas. Las uñas. Quando noi possiamo fare un automasaggio o mettere il dedo qui nel oggio. Se io ho una uña di 5 cm o 3 cm, questo mi va a herir. Quindi, le uñas ben cortate. Si? O almeno 2 uñas. Non credo. Otra cosa è la ropa. La ropa. Los hombres usiamo un tipo di interior che si chiama lungota. Tambien ti va a poner il enlace. Perché tutte queste cose che sono importanti. Sono detalli, però sono importanti. Ok. E per la mujer, un brasier claramente, ropa ajustata. E suave. Come si chiama? Suelta le pantaloni. Non usare l'icra e tutto questo tipo di cose. Questo non è molto bene per la classe di yoga. Si può usare ropa di algodone. La più fresca, sana possibile. Non ti preoccupare il color. A veces la gente dice, no, deve essere di color blanco. Cosa è blanco? Usa il coloro che ti dà la gana a ti. Lo importante è la calidad del tejido. Non il coloro. Muy bene. Otra cosa importante è questa. La manta. Usare una colchonetta o una manta. Perché quando noi facciamo yoga, facciamo questa pressione del sistema glandular come un'aceite. Una cosa natural. Ora, questo non lo vogliamo perdere nel piso. Quindi, che facciamo? Lo usiamo in una manta. E poi facciamo un'automassaggio e lo recuperiamo ancora. Otra cosa è la alimentazione. La alimentazione è l'ideale perché la sasana può avere un'efecto excelente. Significa optimal. Tambien tiene un'efecto, però optimal. Si noi non torniamo vegetariano o troviamo meglio la comida per la conscienza. Ok? E'altra cosa è non fare la sasana. 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 Perché, chiaramente, depende. Se tu ti comi una cosa enorme, dici, tre ore e meia non è abbastante. Non fare la sasana perché ti sta facendo un daño a ti mismo. Ok. Que más? Ejercicio. Ok. Questo è, bueno, lo che stavo dicendo. Lo che vuoi fare, lo faccio, però, dopo la sasana. In la classe. Ora, questo che è antes. In la classe, prima di tutto, arriviamo acelerati. Quindi, vamos a armonizzare, tranquillizzare la mente. La prima cosa che, probabilmente, fa un instructor è, come si chiama, a inspirare, exhalare, tranquillizzare la mente, facciamo la posizione del cadavere, facciamo tutte le cose che ci aiutano a eliminare tutte le tensioni. Va bene? Quindi, una volta che abbiamo questo, facciamo un calentamento. che è questo calentamento? Pues, noi stiamo tidesi, we stiamo facendo lo meglio che abbiamo, per raggio, quindi non vogliamo fare un daño, quindi, noi stiamo affluendo le parti del corpo, e io le lo mostremmo, fisicamente, va bene? Come si è, questo calentamento. Iniziamo da la mumme, la cabeza, il cibo. E, claro, tu chiensi relazare il tendone, lo devi calentare, antes di fare questo esercizio di yoga. E, però, la posizione, è questa posizione. E la posizione tiene sempre una respirazione tranquilla, una posizione che vamos a tener in una maniera confortabile per tantos segundi, hai diversi asanas per tantos segundi, si? No relajiamo, la facciamo otra vez, hai varia serie di asanas, alcune a volte se facendo 4 volte per 2 posizioni o 2 lados, altre se facendo 8 volte per 8 segundi, hai varie posizioni. Questo non è problema, lo vamos a mirar individualmente, dopo le asanas, ora facciamo le asanas, listo, abbiamo fatto, diciamo, 4 asanas. Ora, che abbiamo fatto? Abbiamo, come si chiama? Nostra piel per la presione ha soltato questo aceite naturale, chiamiamolo così, ok? Quindi, noi, che vogliamo fare? Lo vogliamo riponer nel corpo, perché è molto beneficioso per il nostro corpo. Quindi, che facciamo? No facciamo un auto-massaggio, ok? Empezando, questo io lo voglio mostrare in un altro video, quando facciamo la classe di yoga in si messe, perché è una classe di yoga pratica, va bene? Quindi, come si facciamo questo auto-massaggio? Muy sencilla, cominciamo da la cabeça, il pelo, tutta la cosa, e vamos hasta i piedi, ok? Questo non è molto c'era in questo, lo facciamo bene, perché va a tocare tutte le parti, anche, va a amassare anche i piedi, Usted sabe, le mani, i piedi sono collegati con la reflexologia, quindi, tantissime cose che ci servono per manteneremo sano. Relazione, dopo questo auto-massaggio, che facciamo? No, relajiamo, ai, già terminé, mi voglio descansare. Questa gente che si dorme, ok? Quindi, facciamo una relazione, due o tre minuti, è abbastanza, perché se lo continuiamo, ti vai a dormire profondo. E questo ti, come si chiama, ti stai equilibrando otra vez, stai tranquillo, relajato, e facciamo la posizione di Savasana, che è la posizione del cadavere o del muerto. Otra cosa, per un ratico, non tocciamo acqua, non comiamo, non tomiamo acqua, non tocciamo acqua, quindi non facciamo nessuna duccia nel centro del yoga o dove sia, simplement facciamo la relazione e nos tranquillizziamo. Dopo di un ratico, possiamo tomar e comer e tutto questo, sì? E questo è molto importante. E otra cosa è la temperatura dell'acqua, questo è ma o meno un 10 minutico, no más che questo, sì? Però io sé che hai persone che, abituato all'esercizio fisico, dici, bueno, terminé la casa di yoga, già sto sudato, non stai sudato, con la yoga di verità non puoi sudare, e quindi, che vai a fare? Ah, mi va a fare un duchazzo e mi va a casa. No, te vai a casa e ti faccio il duchazzo, quindi, in questo caso, sì, già ha passato i 10 minuti. Altra cosa è la temperatura dell'ambiente, a volte tu stai in un ambiente che è già più calido, diciamo che sta l'aria fria, afuera, quindi, perché abbiamo detto che il tuo corpo sia relazato e tutto questo, non vogliamo dare questo choche inmediato, quindi ti insegno come fare, e questo serve non solo per il yoga, ma per tutte le cose. Diciamo che sto in un ambiente caliente adentro, questo per la gente che vive in un paese frio, quindi, prima di salire, inspiro. Me llenare di l'aria caliente, di dove sto, e salgo. E quando salgo, exhalo. Pam. In questo caso, automaticamente equilibro entre dentro e afuera, e questo è espettacolare. Haga questo. La ultima cosa è camminare. Ok, ora abbiamo relazato la mente, tutto questo, ho fatto tutto questo eserciato, yoga, mi relazato, ora, è vero, non è che tu lo devi fare sempre, però è vero, sì, è vero, se hai la possibilità di camminare un ratico, in un luogo naturale, e questo ti va a equilibrare ancora più. Grazie. 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 Grazie.